A Recanati c'è Villa Coloredo Mels, di origini medievali che ospita i musei civici, con opere che documentano la storia e l'arte dei Recanati fin dalla preistoria. Con testimonianze sulla presenza di una comunità neolitica. È in mostra una collezione di ceramiche istoriate. E lungo le stanze ornate da redi originali si possono ammirare pregevoli affreschi ben restaurati, provenienti dalle chiese recanatesi. La Pinacoteca conserva capolavori del 300 e del 400. Tutti di eccellente fattura e conservazione. È famosa soprattutto per il corpus di opere straordinarie del pittore veneto Lorenzo Lotto. Si spazia quindi dalla trasfigurazione, influenzata da Raffaello, ma di impostazione anticlassica, all'annunciazione, capolavoro assoluto del maestro, per finire con un luminoso lavoro giovanile, il politico di San Domenico. Grazie. 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 Grazie.